Nessuna sorpresa, nessuno sconto. Modena fa Modena e Vibo Valencia resta a bocca asciutta. Troppo forte la corazzata emiliana, troppe. Le energie perse contro Perugia per ripetere l'esplua con gli Umbri e mettere in tasca anche solo un punto. Dopo due giornate positive, la tonocallipo torna ad assaporare il gusto del digiuno in classifica. La squadra di Coach Cantor lotta nelle fasi iniziali di tutti e tre set, perdendosi poi per strada, complice un attacco poco prolifico. Praticamente perfetta, invece, l'Azimuth in tutti i fondamentali. Matteopiano, 11 punti, 58% in attacco, 4 muri personali. È il più performante dei padroni di casa ed è MVP dell'incontro. Tra fatti e regalati, chiude con un più 10 che lo pone con un bottino di 11 punti personali ad un solo punto dall'opposto vettori. Modena ha brillato in tutti i frangenti del match, dominando la scena con un 53% in attacco. Troppo. Rispetto al 38% di Vibo. Solo Michalovic va in doppia cifra, ma il suo è un 10 su 29 che insintetizza la poca incisività nel match dei maggiori fucilieri giallorossi. La squadra è subito rientrata in Calabria, dove martedì sbarcherà l'altra capolista cività nuova dell'ex Kiko Blengini, CT della nazionale vice campione olimpica a Rio. Un'altra festa della pallavoro, un'altra sfida. Tutta da vivere, alle sue buon passo, per la Cineus 24.